Come una cerva nella i corsi d'acqua, così la mia anima annela a te, oh Dio. Come una cerva nella i corsi d'acqua, così la mia anima a te, oh Dio. L'anima mia ha sete del Signore, è Lui la mia speranza. L'anima mia ha sete del Signore, in Lui si riposerà. Come una cerva nella i corsi d'acqua, così la mia anima annela a te, oh Dio. Come una cerva nella i corsi d'acqua, così la mia anima a te, oh Dio. Bene, cari amici, allora prendiamo in mano il nostro libro di Catechesi, Ragioni per vivere e Ragioni per credere, edizione di San Paolo. Questo è il mio primo libro di Catechesi giovanile, cari amici, però è un libro, è un'introduzione al cristianesimo ed è molto adatta per tutti quelli che vogliono appunto ampliare un po' gli orizzonti di conoscenza religiosa. Abbiamo affrontato un capitolo fra i più attuali, cioè il rapporto del cristianesimo con le altre religioni. Noi abbiamo iniziato questo nuovo tema, innanzitutto facendo un'affermazione che dovrebbe essere chiara a tutti se si guarda alla storia dell'umanità, e cioè che l'uomo è per natura religioso. Abbiamo visto che le radici della religiosità dell'uomo sono nella sua stessa struttura, cioè l'uomo è un essere aperto all'infinito, l'uomo è un essere che si interroga sul senso della vita, l'uomo supera l'uomo, come diceva Pascal, quindi nel suo DNA c'è la ricerca dell'assoluto. Ecco perché non c'è civiltà che non sia religiosa. Abbiamo anche detto, cari amici, che è impossibile sradicare la religione dall'uomo e tutta volta che si è tentato di farlo si è fallito, oppure dalla religione si è passati alla degradazione, alla superstizione, e peggio ancora, dove si caccia Dio entra da padrone il demonio. Questa è la verità. Sotto un profilo, diciamo così, culturale, umano, abbiamo visto che le religioni sono la più grande ricchezza dell'umanità. Perché? Perché la storia ci dice, e la storia del passato ma anche del presente, ci dice che le religioni sono le grandi creatrici di civiltà ma anche le grandi creatrici di umanità. Pensiamo a tutta la teoria dei diritti umani di cui giustamente va fino all'Occidente. No, però se guardiamo bene sono nati tutti dal Vangelo, tutti dal Vangelo. Perfino i diritti famosi proclamati dalla rivoluzione francese e sbandierati, diciamo così, in una forma anticristiana in realtà poi erano i principi che affondavano le radici del Vangelo, dove infatti non è vero forse che la libertà, l'uguaglianza, la fraternità hanno radici evangeliche. Dunque le religioni sono la più grande ricchezza dell'umanità perché sono creatrici di civiltà, creatrici di umanità, creatrici di vero progresso morale, civile per le società. Adesso quindi le religioni non vanno combattute, vanno casomai favorite. Naturalmente ci sono anche aspetti degradanti perché nell'uomo non c'è soltanto la luce ma ci sono anche le tenebre dai quali le religioni devono continuamente purificarsi. Adesso affrontiamo cari amici un tema molto importante oggi che risponde a questo interrogativo, siamo a pagina 120 del mio libro e l'interrogativo è questo Le religioni sono tutte uguali? E voi sapete che questo è uno slogan che oggi ha tanto successo, tutte le religioni sono uguali? Questa però non è un'affermazione cristiana perché secondo il cristianesimo esiste un'unica religione vera vera vuol dire che corrisponde alla pienezza della verità e della religione cristiana perché Cristo ha detto io sono la via, la verità e la vita. La unicità della religione cristiana che affronteremo successivamente è dovuta alla unicità del suo fondatore che è Cristo è unico perché è il figlio di Dio è l'unico salvatore, l'unico redentore e forse questa è la più bella perla che ci ha regalato il giubileo e quel documento della congregazione per l'automia della fede approvato da Santo Padre Dominus Iesus dove appunto si dice che Gesù Cristo è l'unico signore e salvatore di tutta l'umanità. Quindi il cristianesimo proclama la sua diversità precisamente perché Cristo è l'unico fra l'altro tra i grandi uomini che ha fatto inizio ai grandi sommovimenti dello spirito è l'unico che ha proclamato di essere Dio non così hanno fatto Buddha o Maometto o altri insomma naturalmente poi questo tema della unicità di Gesù Cristo lo affronteremo adesso mi preme rispondere all'interrogativo che ci si pone allora tutte le religioni sono uguali vi anticipo una distinzione che io faccio che è molto importante per noi cristiani della differenza radicale fra il cristianesimo e tutte le altre religioni cioè le religioni non sono tutte uguali dunque tutte le religioni che noi conosciamo dal nostro punto naturalmente questa è una visione cristiana delle altre religioni una teologia delle religioni tutte le altre religioni cristiane sono nate dalla ricerca che l'uomo fa di Dio da qui sono nate le religioni cioè come sono nate le religioni le religioni sono nate dalla ricerca che l'uomo fa di Dio e dall'esperienza che l'uomo fa di Dio da qui sono nate tutte le religioni che esprimono la ricerca di Dio da parte dell'uomo quindi salgono dal basso e vanno verso l'alto è la creatura che si interroga sul senso della vita e con la luce della ragione con la luce della coscienza con l'intuizione del cuore elabora una religione quindi le religioni nascono dalla ricerca di Dio da parte dell'uomo e da questo punto di vista le chiamerei religioni naturali cioè nascono dal desiderio naturale di Dio che c'è nel cuore dell'uomo come dice Santo Maso d'Aquino nel cuore dell'uomo c'è il desiderio naturale di Dio cioè l'uomo naturalmente desidera Dio cerca Dio è orientato a Dio per natura perché? Perché il suo spirito è aperto all'infinito perché il suo spirito è capace di Dio come dice il Catechismo della Chiesa Cattolica allora le religioni non cristiane noi potremmo chiamarle religioni naturali perché sono l'espressione del desiderio naturale di Dio che c'è nel cuore dell'uomo il cristianesimo invece è una religione radicalmente diversa perché non è una religione che sale dal basso verso l'alto ma è una religione che va dall'alto verso il basso cioè è Dio che va alla ricerca dell'uomo è Dio che si fa uomo ecco dunque la grande differenza tra il cristianesimo e le altre religioni per cui c'è una diversità del cristianesimo da questo punto di vista infatti come che si apre la storia biblica che è la storia della salvezza è Dio che prende l'iniziativa e chiama Abramo è Dio che prende l'iniziativa e chiama la Vergine Maria e gli preannuncia l'incarnazione è Dio che prende l'iniziativa è Dio che va alla ricerca dell'uomo questa è la prospettiva dell'ebraismo e del cristianesimo che sono la specifica storia della salvezza allora mettiamo subito un paletto fra appunto le religioni che noi diciamo rivelate cioè l'ebraismo e il cristianesimo e tutte le altre religioni cioè l'ebraismo e il cristianesimo esprimono la ricerca che Dio fa dell'uomo tutte le altre religioni esprimono la ricerca che l'uomo fa di Dio poi naturalmente c'è da fare molte riflessioni per esempio se nelle religioni naturali come si come le chiamo io o non cristiane tanto per intenderci ci può essere anche qualche ispirazione ci può essere anche la presenza dello Spirito Santo indubbiamente cari amici perché Dio è padre di tutti gli uomini e non c'è dubbio che la grazia di Dio opera ovunque quindi non si può assolutamente negare a priori che nella loro ricerca di Dio gli uomini abbiano avuto l'aiuto stesso di Dio data parte Dio è stato sempre all'azione è stato sempre presente nella storia dell'umanità come data parte era presente anche il demonio quindi non c'è da meravigliarsi se anche nelle altre religioni ci sono elementi che riflettono diciamo così la grazia che illumina la mente dell'uomo e nel medesimo tempo ci sono aspetti negativi che indicano la presenza del potere delle tenebre però non si può parlare delle altre religioni di ispirazione così come noi parliamo di ispirazione per esempio per quanto riguarda la Bibbia e qualcuno mi ha chiesto in questi giorni se possa essere vera la tesi di qualche studioso cattolico secondo la quale il Corano sarebbe ispirato naturalmente Mahometto dice che il Corano gli è stato dettato dall'Arcangelo Gabriele quindi che il Corano in pratica è stato dettato da Allah ecco e quindi secondo i musulmani il Corano è ispirato da Dio è la parola di Dio è dettato da Dio la parola di Allah tant'è vero che il Corano anche i bambini di qualsiasi lingua i bambini musulmani lo imparano in arabo io mi ricordo in Africa le tribù africane i bambini imparavano a memoria il Corano in arabo perché Dio parla arabo secondo appunto i musulmani Dio ha parlato arabo però questo è il punto di vista dei musulmani e il punto di vista cristiano noi non possiamo ritenere il Corano ispirato nel modo più assoluto e tantomeno vettato dall'Arcangelo Gabriele questo dal punto di vista cristiano per quale motivo cari amici ma perché scusate il Corano nega esplicitamente la divinità di Cristo nega esplicitamente il mistero della croce secondo Maometto non Cristo ma un altro un suo sosia era crocifisso perché secondo Maometto non può un profeta di Dio subire l'umiliazione della croce ecco perché i musulmani hanno questa ostilità del profondo verso il crocifisso perché secondo loro non era Gesù non era il profeta Gesù che era in croce era un suo sosia ma come può essere ispirato scusate un testo parlo dell'ispirazione cristiana naturalmente io parlo dal punto di vista cristiano quindi come i musulmani hanno il loro punto di vista sul cristianesimo così noi cristiani abbiamo il nostro punto di vista sull'islam allora i musulmani naturalmente loro dicono che il Corano è ispirato anzi è dettato da Dio noi non possiamo assolutamente come ritiene qualche studioso cristiano ritenere il Corano ispirato per la semplice ragione che nega il cuore stesso del cristianesimo nega la persona stessa di Cristo la sua divinità e la salvezza mediante la croce come può essere ispirato una cosa del genere quindi si deve avere un po' di buon senso ciò non toglie comunque che Mahometto abbia avuto un'intuizione molto importante che bisogna dare la radice di quella che è la religiosità di Mahometto un'intuizione certamente molto vera che poi lui tra l'altro ha scopertolo conoscendo le comunità ebraiche e conoscendo anche comunità cristiane che però probabilmente erano ereticali e quindi avevano di Gesù Cristo una nozione sbagliata non pare che Mahometto sia venuto a conoscenza in Arabia di comunità cristiane ortodosse cioè ortodosse significa cattoliche ecco pare che invece abbia conosciuto comunità cristiane ereticali quindi è stato sviato da questo punto di vista comunque ha conosciuto gli ebrei l'intuizione di fondo di Mahometto è esattamente quella della Bibbia cioè Dio Uno Dio Unico infatti la grande lotta di Mahometto anche lotta non soltanto ideale ma anche reale con le armi è stata fatta per distruggere le divinità pagane che allora erano radicati in tutte le tribù in tribù arabe cioè non si nega che all'origine dell'esperienza di Mahometto ebbe un'esperienza religiosa molto significativa come quella del monoteismo questo lo si vede chiaramente nella sua vita e nel suo programma insomma poi come abbia avuto origine del Corano questo lo sapremo forse nell'aldilà perché non possiamo però parlare di ispirazione divina di un libro che nega la divinità di Cristo che nega esplicitamente la divinità di Cristo e nega la croce nega la croce dalla quale vede la salvezza c'è da dire comunque che nella sua e poi non bisogna dimenticare che Mahometto ritiene se stesso profeta superiore sia a Mosè sia a Cristo quindi non so dico un po' di buon senso che i musulmani dicano naturalmente che Mahometto completa Mosè e Cristo che Mahometto è il punto d'arrivo della rivelazione lo si comprende benissimo benissimo lo dicono loro è la loro fede ma che dei cristiani dicano che il Corano ispirato fa veramente pena insomma fa veramente ridere per scusate allora che nozione avete di ispirazione allora avete letto il Corano non è forse negata la divinità di Cristo del Corano allora come si può non è forse detto che la rivelazione si completa in Mahometto e allora siamo a livello di Mun anche Mun dice che Gesù Cristo fu un grande uomo ma la rivelazione piena arriva con lui ecco siamo a quei livelli lì a mio parere per cui non c'è dubbio cari amici che bisogna parlare da una parte della della del 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 cristianesimo che sono religioni rivelate cioè Dio che prende l'iniziativa Dio che cerca l'uomo tutte le altre sono religioni naturali l'uomo che cerca Dio questo è il punto di vista cristiano quindi c'è già questa diversità radicale fra il cristianesimo e l'ebraismo da una parte e tutte le altre religioni dall'altra e poi naturalmente non si può assolutamente dire che anche le religioni naturali non si può dire che tutte le religioni sono uguali anche per quanto riguarda le religioni naturali sono molto diverse fra di loro perché alcune sono più ricche altre più povere alcune più elevate altre meno elevate alcune più profonde altre più superficiali anche se bisogna dire che se si vuole spigolare i frammenti di verità nelle varie religioni naturali c'è comunque una piattaforma comune specialmente ci sono alcune grandi verità che sono in alcune religioni approfondite in altre ancora lo stato embrionale che sono molto importanti punto primo tutte le religioni riconoscono l'esistenza di un essere supremo punto secondo tutte le religioni riconoscono che l'uomo ha due dimensioni ha un'anima ecco ha una dimensione spirituale terzo tutte le religioni riconoscono che esistono al di là poi più o meno rappresentato quarto tutte le religioni hanno elementi di morale naturale che sono quegli elementi che sono racchiuse in dieci comandamenti quindi c'è certamente un qualcosa di comune ed è quello che vi ho detto nelle varie religioni in alcune più sviluppato altre meno sviluppato però poi fra loro le religioni sono molto differenti sono molto differenti e ci sono delle religioni più elevate e altre meno elevate insomma ci sono delle religioni dove la luce è molto grande in altre dove le tenebre sono molto grandi per cui l'affermazione che tutte le religioni sono uguali è uno slogan da supermercato è veramente uno slogan da supermercato a parte la diversità del cristianesimo dell'ebraismo cristianesimo perché perché parlo di ebraismo perché il Vengo del Testamento per noi è la storia della salvezza del popolo ebraico per noi è parte integrante del cristianesimo quindi non so c'è questa differenza fondamentale tra la Bibbia diciamo così la storia della salvezza ebraico cristiana e tutte le altre religioni perché per noi è Dio che va alla ricerca dell'uomo nel loro caso è l'uomo che va alla ricerca di Dio ecco come sono nate due esperienze religie sono state diversamente ma poi anche fra le religioni naturali c'è una grande diversità fra di loro ma una diversità immensa cari amici e anche sostanziale anche in cose sostanziali perché in molte religioni c'è tanta luce e in molte altre in molte altre c'è una prevalenza preoccupante di tenebre dopo questa introduzione vediamo ora questo capitolo cari amici a pagina 120 ci chiediamo le religioni sono tutte uguali vediamo finora abbiamo guardato le grandi tradizioni religiose come un patrimonio di inestimabile valore per l'umanità tuttavia occorre sottolineare che ogni religione ha una sua precisa identità e possiede valori propri religione sotto il profilo dei contenuti è errato affermare che tutte le religioni sono uguali indubbiamente in ognuno di esse vi è la ricerca dei significati ultimi ma le risposte sono diverse e ognuna ha un'angolatura originale nel sottolineare gli aspetti problematici della vita per esempio gli egiziani e gli etruschi erano affascinati dal problema dell'aldilà in india ed estremo oriente e asiatico l'attenzione è rivolta all'ascesi e al distacco dal mondo nel medio oriente al centro dell'esperienza religiosa vi è la trascendenza la unicità di dio nelle religioni africane e americane in primo piano vi è il rapporto dell'uomo con la natura ogni fede religiosa è inconfondibile e rappresenta un contributo importante nella ricerca della verità cioè quella ricerca che fa l'uomo della verità il cristiano che viene in contatto con le altre religioni valuta con l'attenzione quanto gli uomini sono riusciti a conquistare con la luce naturale del verbo di dio che brilla in ogni anima quindi il cristiano che guarda le altre religioni cerca di cogliere i frammenti di verità che la mente umana che è la luce di dio creata da dio è riuscita a raggiungere è necessario quindi da parte nostra un discernimento sicuro per cogliere aspetti di verità che spesso sono frammisti a errori a degenerazioni quindi si tratta di cercare proprio le pepite d'oro in mezzo a tanta ganga come si dice a tanta sabbia a tanto fango ci chiediamo tuttavia se sia possibile tracciare un quadro delle verità essenziali che l'uomo guidato dalla ragione e dal cuore ha conquistato nel suo cammino plurimillenario cioè vediamo se hanno comunque qualcosa in comune le religioni naturali e io dico di sì e vedremo quali no non si tratta di un'operazione inutile in quanto non è cosa da poco verificare se esistono certezze comuni nelle quali la maggior parte degli uomini si possa ritrovare a questo riguardo va sottolineato come l'esperienza religiosa faccia costantemente riferimento a un essere supremo creatore o ordinatore del mondo providente e buono le religioni bibliche in particolare sottolineano con forza l'unicità di Dio la sua trascendenza rispetto al mondo la sua signoria sulla vita e sulla storia e la sollecitudine paterna verso l'uomo solo il buddismo dalla sua formulazione originaria ignora polemicamente il tema dell'esistenza di Dio in quanto oggetto di dispute a sua parere inconcludenti ma successivamente la corrente maggiore di questa religione finirà per considerare il Buddha come una manifestazione divina cioè dico che in tutte le religioni c'è la presenza di questo essere supremo eccetto il buddismo originario perché il Buddha non si è posto il problema di Dio Buddha riguardo a Dio all'anima dicono i testi antichi conservò un nobile silenzio ma eccetto però poi il buddismo si sviluppò in una forma in cui pratica lo stesso Buddha venne divinizzato perciò con l'eccezione del buddismo tutte le religioni hanno un essere supremo che alleggia su di loro un altro fondamentale convincimento comune riguarda l'esistenza dell'anima dell'uomo ritenuta spirituale e mortale anche qui anche su questo punto c'è solo l'eccezione del buddismo che anche riguardo all'anima il Buddha conservò un nobile silenzio ma in tutte le altre religioni c'è la percezione che l'uomo è a due dimensioni e che ha un'anima spirituale e mortale che sopravvive dopo la morte sono le verità che sono state conquistate dalla luce naturale dalla ragione l'umanità nel corso della sua storia è pervenuta nel suo insieme alla certezza dell'esistenza nell'uomo di una dimensione che trascende la materia e che sopravvive dopo la morte non c'è popolo che non seppellisca i suoi morti perché questo? perché c'è la percezione dell'aldilà della sopravvivenza dell'uomo la concezione dell'uomo a due dimensioni cioè una materiale e una spirituale rappresenta uno dei contributi fondamentali del passato e c'è da chiedersi quali credenziali culturali abbia l'attuale massiccia volgarizzazione della concezione materialistica dell'uomo cioè tutta la storia della civiltà testimonia che l'uomo è a due dimensioni e c'è da chiedersi allora che patente culturale ha l'attuale affermazione che l'uomo è il suo corpo e che l'uomo è uno scimmione più sviluppato l'uomo inteso come puro fenomeno materiale sembra funzionale a quella visione del mondo come mercato dove gli esseri umani giocano il ruolo di produttori e di consumatori ecco cioè si identifica l'uomo col suo corpo perché questa è la visione attuale del mondo ridotto mercato quindi Dio e l'anima sono dunque le due stelle che illuminano e alimentano le grandi tradizioni religiose sono queste le più elevate conquiste dell'uomo alla ricerca del senso della vita accanto a queste due verità solari brillano altre luci non meno importanti innanzitutto la convinzione che c'è una vita oltre la morte in quanto l'anima spirituale non muore col corpo ed è immortale quindi esistenza di un essere supremo esistenza di un'anima spirituale immortale poi la vita oltre la morte è affermata in tutte le religioni vi dicevo il buddismo fa eccezione nella sua componente inayana cioè quella filosofica ma poi invece nella sua componente popolare o del grande veicolo come viene chiamata anch'essa afferma l'esistenza di Dio questo Dio è il Buddha l'esistenza dell'anima e l'esistenza verrà al di là nella descrizione della vita d'oltre tomba c'è molta varietà fra le religioni ma ne viene affermata con forza l'esistenza arrivando perfino a intuire che il giudizio di Dio sulla vita dell'uomo segue che al giudizio di Dio sulla vita dell'uomo segue il premio e il castigo pensate che Platone addirittura nel Timeo nel suo diario che time ipotizza addirittura l'esistenza dell'inferno per i delitti più grandi infine dato non meno importante nelle più diverse culture vi è la percezione di una legge naturale che governa il mondo e la vita degli uomini discriminando fra ciò che è bene e ciò che è male cioè ci sono elementi della morale naturale presenti più o meno in tutte le religioni a questo riguardo possiamo dire che le religioni hanno incessantemente guidato la crescita morale dell'umanità ispirando la sua vita la legge eterna di Dio impressa nell'anima la parte essenziale dei dieci comandamenti è disseminata nelle varie tradizioni religiose dell'umanità anche se a questo riguardo si deve riconoscere che il cammino mortale morale è stato particolarmente lento e faticoso con l'alternarsi di gravi deviazioni e di imprevedibili riprese la negazione di una legge morale naturale che trascende l'uomo cioè quello che mi parebbe dire adesso è che oltre alla esistenza di un essere supremo oltre al riconoscimento che l'uomo ha un'anima e oltre al riconoscimento che c'è un al di là nelle varie religioni si riconosce la presenza di una legge morale della quale l'uomo dovrà rispondere a Dio cioè in base alla quale l'uomo sarà giudicato questa che è una costante di tutte le tradizioni religiose purtroppo è una realtà che viene negata oggi perché oggi si nega l'esistenza di una legge morale naturale se afferma che l'uomo è il giudice l'arbitro del bene e del male quindi cari amici concludendo l'affermazione dell'esistenza di Dio dell'anima della legge morale e dell'aldilà sono alcune delle certezze fondamentali che l'esperienza e il cuore hanno conseguito attraverso la ricerca religiosa cioè questi elementi sono presenti più o meno sviluppati in tutte le religioni naturali che esprimono la ricerca che l'uomo fa di Dio si tratta di un patrimonio ideale insostituibile che consente all'uomo di interpretare e progettare la vita senza il pericolo di precipitare negli abissi del non senso e della banalizzazione quindi è chiaro che attraverso queste verità che sono presenti nelle varie religioni Dio riesce a filtrare la sua grazia nei cuori pensiamo per esempio come la preghiera è presente in tutte le religioni è chiaro che quando questa preghiera è fatta in buona fede con cuore retto ottiene certamente l'aiuto di Dio nonostante la diversità delle varie tradizioni e le caratteristiche distintive di ogni fede religiosa si può dunque parlare di una ricchezza comune che alimenta la visione della vita di numerevoli uomini il tentativo di eliminare le conquiste e le professioni dello spirito umano ottenute attraverso millenni di faticoso cammino per imporre una visione effimera della vita non solo non rappresenta nessun passo avanti nella ricerca della verità ma costituisce la minaccia più grave che l'uomo abbia mai conosciuto nei confronti della sua degnità quindi questo tentativo odierno di diffondere il materialismo e l'ateismo è una minaccia gravissima perché perché priva l'uomo delle sue conquiste più nobili ora si pone un interrogativo ulteriore ineliminabile ineliminabile quale posto occupa la fede cristiana nel contesto delle religioni del mondo noi cari amici abbiamo messo a fuoco la domanda le religioni sono tutte uguali abbiamo risposto da una parte esistono le religioni che sono naturali che esprimono la ricerca che l'uomo fa di Dio dall'altra esiste la religione ebraico-cristiana che esprime la ricerca che Dio fa dell'uomo perché parlo dico ebraico-cristiana perché perché anche l'ebraismo è una religione della iniziativa divina è l'uomo che dice è Dio che ricerca l'uomo e l'ebraismo naturalmente poi è confluito nel cristianesimo che però si distingue radicalmente dall'ebraismo per il mistero dell'incarnazione dunque da una parte delle regioni naturali dall'altra delle regioni rivelate le regioni naturali sono tutte le religioni quelle rivelate sono il cristianesimo e l'ebraismo le regioni naturali non sono tutte uguali fra di loro sono molto diverse fra di loro però hanno dei punti in comune che sono molto importanti sono un patrimonio spirituale dell'umanità l'esistenza di Dio dell'anima della legge morale e dell'aldilà come una cerva nella i corsi d'acqua così la mia anima nella te o Dio come una cerva nella i corsi d'acqua così la mia anima Dio affrontiamo adesso un paragrafo molto interessante e cioè qual è il rapporto del cristianesimo con le altre religioni siamo appunto nel cuore di questo nonno capitolo del nostro libro che riguarda appunto il cristianesimo e le altre religioni noi frio abbiamo fatto così delle affermazioni fondamentali molto importanti cioè che l'uomo è per natura religioso e quindi perché? perché è un'anima che è aperta all'assoluto che è aperta all'infinito e che si interroga sul senso della vita per cui la pretesa di estirpare la religione della società è semplicemente una pretesa assurda come la storia dimostra abbiamo visto che le religioni sono una grande ricchezza pur che i loro limiti sono una grande ricchezza nella storia dell'umanità perché sono creatrici di civiltà creatrici di moralità creatrici anche di di umanità abbiamo fatto anche una breve riflessione per quanto riguarda il cristianesimo se tognessimo il cristianesimo nella storia della nostra nazione cosa resterebbe cari amici poi ci siamo chiesti è vero che le religioni sono tutte uguali noi abbiamo detto abbiamo detto da punto di vista cristiano naturalmente il cristianesimo e connesso anche all'ebraismo è una religione che viene dall'alto cioè è la ricerca che Dio fa dell'uomo mentre le religioni naturali sia le grandi religioni come le più più semplici quelle che sono legate ancora alle forme e alla civiltà più semplici sono più che sono piuttosto la ricerca dell'uomo che l'uomo fa di Dio quindi sono religioni che partono dal basso verso l'alto mentre il cristianesimo è una religione che dall'alto va verso il basso cioè le religioni naturali sono la ricerca che l'uomo fa di Dio sono religioni ascendenti il cristianesimo e l'ebraismo sono religioni dove l'iniziativa è di Dio Dio sceglie Abramo Dio si fa uomo eccetera e quindi Dio che va alla ricerca dell'uomo allora un cristiano non può ritenere il cristianesimo una religione come tutte le altre semplicemente perché per lui Gesù Cristo è Dio è Dio che si fa uomo oggi vedremo come poi deve essere l'atteggiamento del cristiano rispetto alle altre religioni poi abbiamo detto che l'affermazione che tutte le religioni sono uguali non è vera anche per quanto riguarda le religioni naturali perché sono molto diverse fra di loro ci sono le più volute le meno volute le più ricche le meno ricche le più anche quelle che ci sono anche religioni che un po' tutte le religioni umane hanno la pesantezza della carriera del peccato dentro di sé quindi dire che tutte le religioni sono uguali significa dire una sciocchezza dal punto di vista culturale però è una frase che per quanto riguarda le religioni naturali contiene un frammento di verità cioè è vero che tutte le religioni naturali hanno qualcosa in comune cioè l'affermazione che Dio esiste che l'uomo è a due dimensioni cioè che è una dimensione spirituale che esiste un al di là e che esiste una legge morale adesso vediamo cari amici qual è il rapporto del cristianesimo con le altre religioni è un paragrafo molto lungo questo che troviamo a pagina 123 del mio libro però lo leggiamo lo leggeremo con calma vi do subito un paio di chiavi di interpretazione in modo tale che poi possiate comprendere bene e cioè c'è una diversità radicale del cristianesimo che è la diversità di Gesù Cristo rispetto a tutti gli altri fondatori di religione cioè Gesù Cristo è l'unico che ha affermato se stesso di essere Dio di essere l'inviato del Padre di essere Dio come Dio Gesù non ha cercato la salvezza come vedremo nel capitolo dedicato a Gesù Cristo non ha cercato la salvezza per sé ma l'ha portata per noi tutti gli altri fondatori della religione ritengono di essere degli uomini che cercano la salvezza ritengono di aver trovato delle luci e le comunicano agli altri quindi per noi cari amici il cristianesimo come ci insegna la Chiesa è una religione unica è una religione radicalmente diversa da tutte le altre non ci è consentito perché diversamente faremo un naufragio nella fede considerare Gesù Cristo uno dei tanti fondatori di religione questa è la visione induista non cattolica nella visione cattolica Gesù Cristo è l'unico salvatore del genere umano perché è Dio fatto uomo che poi gli altri non ci credono sono cosa loro l'importante è che ci crediamo noi cristiani a questo allora sorge cari amici un interrogativo ma la consapevolezza che il cristianesimo è la religione vera che Gesù Cristo è Dio non porta non rischia di portare un disprezzo nei confronti delle altre religioni non rischia di creare sensi di superiorità eccetera 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 ebbene cari amici fin dagli primi tempi si è sviluppata una teologia una riflessione cristiana già fin dai primi tempi dei tempi degli apostoli che riguarda l'atteggiamento del cristiano verso le altre religioni direi che il primo che già Gesù Cristo comunque aveva parlato chiaro quando aveva detto ho altre pecorele che non sono di questo vile faceva riferimento a tutto il mondo pagano quindi non solo le pecore perdute di Israele quindi il cristianesimo è nato universalista cioè il cristianesimo ha portato la salvezza universale per tutti però già Paolo vi ricordate Paolo quando ha fatto il discorso all'Europago di Atene aveva detto chiaro e tondo che quel Dio ignoto che voi venerate io ve lo annuncio in questa frase di Paolo cosa quale quale concetto c'è sotto il concetto che le altre religioni in ciò che hanno di buono di vero di giusto possono essere una preparazione al Vangelo naturalmente ciò che hanno di giusto di bello di buono non ciò che hanno di negativo facciamo un esempio la tanta discussa discussa appunto la tanto discussa questio questio vexata come si dice questo discussa fino al Medioevo del rapporto fra l'Islam e il cristianesimo indovamente l'Islam nella misura in cui afferma la fede in Dio è la ferma con molto vigore indubbiamente da questo punto di vista l'Islam insieme all'ebraismo viene considerata anche da noi cristiani una religione monoteista di fatto si parla delle tre religioni monoteiste quindi da questo punto di vista l'Islam è la misura in cui ha aiutato tanti popoli a superare il politeismo e l'adorazione degli idoli e li ha portati all'adorazione di un Dio unico l'Islam ha svolto una funzione propedeutica alla fede ma nella misura in cui ha negato la divinità di Cristo nella misura in cui ha negato la salvezza dalla croce dicendo che sulla croce c'era un sosia nella misura in cui naturalmente Maometto si proclamava al di sopra di Gesù Cristo perché venendo dopo completava con le verità era un po' la pienezza della verità ecco da questo punto di vista è chiaro che l'Islam allora non prepara il cristianesimo ma tenta di sostituirlo però fin dagli inizi dobbiamo dire cari amici che si è sviluppato una teologia che poi la scuola teologica alessandrina parla di Alessandria d'Egitto con origene con un clemente alessandrino con origene eccetera ha sviluppato una teologia del cosiddetto logos spermaticos cioè dei frammenti del verbo che sono diffusi come pagliuzze nella sabbia nelle varie religioni allora cari amici la misura in cui attenzione cari amici la misura in cui le religioni affermano l'esistenza di Dio dell'anima della legge morale naturale dell'aldilà eccetera sono una preparazione al cristianesimo non ci dubbio al riguardo e da un certo punto di vista noi dobbiamo dire che il cristianesimo comunque incomincia laddove le altre religioni finiscono perché il cristianesimo dà per scontato che Dio esista la sua affermazione la affermazione cristiana centrale non è che Dio esiste cosa è detto per scontato l'affermazione cristiana fondamentale che specifica il cristianesimo è che Dio si è fatto uomo da questo punto di vista il cristianesimo incomincia dove le altre religioni finiscono perché le altre religioni conducono a Dio e il cristianesimo dice che Dio si è fatto uomo per venire in mezzo a noi per cui noi cristiani non abbiamo nei confronti delle altre religioni nessun motivo di disprezzo perché c'è in esse ci sono in esse frammenti di luce che sono una possono essere e in realtà lo sono spesso una preparazione al Vangelo ecco dunque l'atteggiamento del cristiano che non il cristiano non dice il cristianesimo è una religione come tutte le altre il cristianesimo è la pienezza della verità perché Dio si è fatto uomo incomincia laddove le altre religioni finiscono e porta la pienezza a quei frammenti di verità che ci sono nelle altre religioni porta la luce piena laddove ci sono delle lampade accese e porta la luce del sole divino laddove ci sono delle lampade accese e nel medesimo tempo però non c'è dubbio cari amici che il cristianesimo fa anche discernimento e l'ha sempre fatto nel corso della storia fa discernimento perché insieme alle pagliuzze d'oro c'è anche tanto fango nelle religioni parliamo di una religione che offende nessuno per esempio quella degli Astechi dove gli Astechi erano in perpetua guerra perché pensavano che Dio avesse fame di sangue per placare la fame di sangue di Dio avevano bisogno di uccidere molti nemici chiaro che questi sono aspetti inaccettabili oppure quelle religioni dove c'era il sacrificio del sacrificio umano che c'è ancora per esempio in India in alcuni strati dell'induismo dove le vedove si bruciano vive il sacrificio umano per dirne un'altra quindi il cristianesimo ritiene che ci sono frammenti di luce ma anche bisogna fare discernimento per separare questi frammenti di luce da aspetti che violano la dignità della persona umana allora questa è la introduzione adesso incominciamo a leggere questo capitolo che forse non finiremo oggi siamo a pagina 123 che ci aiuta ad avere l'atteggiamento giusto rispetto alle altre religioni cioè consapevolezza della unicità del cristianesimo ma rispetto alle altre religioni perché sono frammenti di verità che possono essere portati che possono essere una preparazione al Vangelo e quindi possono anche aprire un dialogo e possono anche aprire una proposta da parte nostra perché venga perché si venga a conoscenza di appunto dell'unico Signore Salvatore che è Gesù Cristo leggiamo allora in un contesto storico siamo a pagina 123 dove i viaggi le migrazioni in mezzo di comunicazione di massa hanno fatto del mondo un villaggio dove tutti si conoscono è inevitabile che le diverse visioni della vita abbiano a confrontarsi in particolare i cristiani che oggi si trovano quotidianamente mescolati con fede antiche e nuove si chiedono quale sia il rapporto fra il cristianesimo e le altre religioni si tratta di una tematica che non si presenta per la prima volta alla riflessione dei crementi in Gesù Cristo in quanto fin dalle origini il messaggio evangelico ha dovuto confrontarsi con quello straordinario pantheon delle religioni che era la società dell'impero romano quindi i primi cristiani hanno dovuto riflettere sul rapporto fra la loro fede e le religioni quella congerie di religioni che era l'impero romano oggi oggi di fronte al pullurale delle fedi non di rado si riscontrano due atteggiamenti ugualmente errati alcuni cristiani io parlo dei cristiani alcuni cristiani si chiudono nella propria cittadella e levando steccati come se tutto ciò che sta al di fuori fosse sospetto è l'atteggiamento del fondamentalismo che per la verità minaccia tutte le religioni ma che quella sfiora anche il mondo cristiano cioè noi siamo tutti veri gli altri sono tutti falsi altri invece finiscono per perdere di vista la ricchezza della propria fede e considerano le religioni ugualmente valide e utili mettendole tutte sul medesimo piano anche questo è un atteggiamento sbagliatissimo si chiama falso ecumenismo falso irenismo anzi alcuni spingono questo atteggiamento fino a costruire un credo religioso personale attingendo al proprio gusto elementi da questa da quella religione anzi alcuni addirittura praticano la doppia appartenenza io sono cristiano e buddista nel medesimo tempo sono atteggiamenti inaccettabili dal punto di vista cristiano è la mentalità da supermarket che rischia di dissolvere perché supermarket perché uno va come a supermarket sceglie quello che gli pare dalle varie religioni è la mentalità da supermarket che rischia di dissolvere l'identità del cristianesimo dando origine a miscoli difficilmente classificabili i primi cristiani che si trovavano in una situazione analoga alla nostra hanno saputo evitare con grande sapienza sia l'intolleranza sia la rendevolezza essi partivano dalla certezza interiore che la fede cristiana è la pienezza della verità è la parola definitiva che viene data sui grandi interrogativi riguardanti la vita infatti il cristianesimo fin dall'origine ha concepito se stesso come una rivelazione divina è Dio stesso che facendosi uomo in Gesù Cristo ci ha rivelato il mistero di Dio e il mistero dell'uomo quindi i primi cristiani avevano la consapevolezza di essere nella pienezza della verità questa pienezza della verità che era Gesù Cristo la fede cristiana ha come suo perno fondamentale il riconoscimento di Gesù Cristo come Dio incarnato questo è il cuore della fede cristiana la sua parola non è una parola di uomo che per sua natura è limitata e modificabile da un altro uomo essa è parola di Dio e quindi rivelatrice della verità ultima delle cose l'opera di Gesù Cristo è l'opera della salvezza vera reale definitiva quale nessun uomo ha potuto o potrà compiere mai perché Dio facendosi uomo ha sottratto la vita umana dagli artigli del male dall'oscurità dalla finitezza dal non senso e l'ha introdotta nella dimensione divina della luce della gioia e dell'amore infiniti quindi fin dall'inizio c'è stato nel cristianismo la consapevolezza che Gesù Cristo è l'unico salvatore perché è Dio è l'unico salvatore di tutti gli uomini il mistero dell'incarnazione è il cuore del cristianesimo cioè la fede in Gesù Cristo vero Dio e vero uomo fa sì che il cristiano consideri lui solo come il salvatore il redentore e il maestro solo Gesù Cristo può salvare perché lui solo è Dio mentre tutti gli altri uomini anche i più grandi hanno bisogno di salvezza data parte un Buddha un Mahometto altri sono mai sognati sognati di non avere bisogno di salvezza loro stessi ricorrevano a Dio ma Gesù ricorreva al Padre in quanto uomo ma in quanto Dio diceva di essere uguale al Padre gli uomini in quanto tali cioè gli uomini come noi e quindi anche i grandi fondatori di religione non possono salvare né se stessi né gli altri solo Dio può salvare questa salvezza a cui l'umanità nera fin dalle origini si realizza con l'avvenimento dell'incarnazione e dell'avvenuta di Dio nelle trame della nostra vita a partire da questa assoluta certezza di fede i primi cristiani hanno guardato al variegato mondo religioso cioè a partire dalla consapevolezza che Cristo è Dio e quindi l'unico salvatore i primi cristiani hanno guardato al variegato mondo religioso del loro tempo cercando di comprendere quale valore nel piano provvidenziale di Dio avessero le religioni erano da rigettare come errate oppure avevano un significato e corrispondevano a un disegno divino domanda che conserva oggi tutta la sua attualità ebbene i primi cristiani hanno guardato alle varie esperienze religiose dell'umanità come a una remota preparazione del Vangelo certamente a essi non sfuggivano i limiti gli errori e perfino le degenerazioni del sentimento religioso tuttavia sapevano vedere le luci di verità e di moralità ovunque presenti attraverso le quali il verbo preparava il terreno alla seminagione della buona novella e questo caramici non solo i primi cristiani ma anche i cristiani del medioevo pensate per esempio qual era l'atteggiamento dei vari non so Dunscoto San Tommaso San Buonaventura Pietro Lombardo e tutti i grandi teologici del medioevo rispetto ai grandi filosofi come Platone e Aristotile lo stesso San Tommaso riteneva Platone e Aristotile i preparatori della filosofia cristiana quindi i cristiani di primi tempi pur sapendo far discernimento quindi vedere anche i limiti di errori e perfino le degenerazioni del sentimento religioso tuttavia sapevano vedere le luci di verità e di moralità ovunque presenti attraverso le quali il verbo preparava il terreno all'asseminagione della buona novella e il verbo spermaticos cioè il verbo che è asseminato dovunque delle luci di verità e di moralità questo per quanto riguarda tutte le religioni un discorso a parte merita il rapporto della fede cristiana con l'ebraismo che è intimamente congiunto al cristianesimo in quanto Gesù Cristo è l'adempimento delle attese di Israele noi cristiani non mai dimenticare che Gesù è ebreo Maria è ebrea che gli apostoli sono tutti ebrei insomma nonostante le tensioni dei primi tempi i cristiani hanno concepito fin dall'inizio la fede di Israele come il ceppo da dove è nata la fede cristiana ma di secondo Paolo non siamo un ramo che è nato sull'olivo di Israele ma a parte quindi l'ebraismo fa parte del cristianesimo come il vecchio testamento fa parte della Bibbia così l'ebraismo fa parte del cristianesimo sono parenti stretti insomma gli ebrei dei cristiani proprio parenti di sangue ma a parte il rapporto speciale con l'ebraismo è importante sottolineare che fin dall'origine del cristianesimo pur concependo se stesso come l'unica religione vera e l'unica via di salvezza per tutti gli uomini valorizza le altre esperienze religiose e le colloca su un piano providenziale di Dio che attraverso di esse ha impedito che gli uomini perissero nelle tenebre dell'errore del male cioè il cristianesimo ritiene che attraverso le luci che sono diffuse anche nelle altre religioni Dio ha illuminato anche gli altri uomini perché potessero conoscerlo e potessero riconoscerlo e potessero servirlo da parte la grande differenza che c'è tra il cristianesimo e tante altre religioni è proprio questa che un pagano in buona fede oppure una un seguace di altre religioni in buona fede può salvarsi un cristiano in cattiva fede che non mette in pratica il cristianesimo può dannarsi questo mi pare che sia il segno questa teologia che è teologia vera cioè un cristiano che non che non mette in pratica il cristianesimo e che non si pente si danna mette un pagano oppure un qualsiasi altro seguace di altre religioni che è in buona fede e che comunque si pente dei suoi peccati e si può salvare questo è il segno che il cristianesimo è una religione che non ha nessuna pur proclamandosi l'unica religione che ha la penenza della verità non ha nessuna venatura di intolleranza proprio perché riconosce che anche gli altri possono salvare per salvarsi per la grazia di Cristo anche se non sono cristiani perché lo siano in buona fede perché non ci sia la negazione cosciente della verità mentre diciamo che un cattivo cristiano può dannarsi quindi aveva fatto sorridere quei musulmani che avevano protestato perché Dante aveva messo all'inferno un maometto forse che i musulmani non sanno che Dante ha messo all'inferno anche i papi quindi per dire che per il cristianesimo non è l'appartenenza che conta ma è la corrispondenza non l'appartenenza ma la corrispondenza alla grazia da queste impostazioni di fondo le prime generazioni cristiane hanno saputo avviare un'opera di evangelizzazione che da una parte proponeva con forza che in Gesù Cristo c'è la pienezza della verità e della vita e dall'altra valorizzava gli elementi validi presentati dalle diverse fedi quindi i primi cristiani presentavano con decisione la salvezza che veniva da Cristo ma nel medesimo tempo diceva che Cristo adempiva le attese che erano insite in queste religioni oggi siamo in una situazione analoga a quella dei primi secoli del cristianesimo perché siamo noi siamo come i primi cristiani erano in questa pantheon delle religioni così anche noi oggi il problema vero però è che noi non abbiamo la stoffa dei primi cristiani ecco il problema essi partivano dalla consapevolezza che Gesù Cristo è la luce del mondo e annunciavano con entusiasmo e convinzione questo messaggio di salvezza per tutti la storia della diffusione del cristianesimo nel mondo è inconcepibile senza questo fervore della fede che ha caratterizzato le più straordinarie imprese missionarie oggi invece si coglie qua e là una certa esitazione dei cristiani a presentare la loro fede come la pienezza della verità e Gesù Cristo come l'unico salvatore del mondo ecco dunque cari amici qual è la nostra debolezza oggi che noi non abbiamo la consapevolezza dei primi cristiani che Gesù Cristo è il salvatore del mondo e che il cristianesimo è la pienezza della verità ma se noi avessimo questa consapevolezza possiamo poi tranquillamente guardare alle altre religioni come un campo dove cresce anche quel buon seme che Cristo stesso ha seminato nei cuori affermando che il cristianesimo è l'unica religione vera si è quasi il timore di essere accusati di intolleranza e di arroganza da questa incertezza sull'identità della propria fede deriva una concezione errata del dialogo con le altre religioni come se il cristianesimo non avesse una pienezza divina va a donare voi vedete come il papa dialoga e come il papa fa il comunismo basta leggere i suoi discorsi perfino quando il papa si incontrò ad Assisi con i rappresentanti delle varie religioni eravamo nel 1986 il papa in quel discorso annunciò Gesù Cristo come l'unico salvatore come dunque un cristiano deve vedere il rapporto fra il proprio credo religioso e le altre fedi abbiamo messo in luce come le grandi religioni del mondo debbono essere considerate il risultato della lunga ricerca della ragione umana guidata e sorretta dalla grazia perché la grazia lavora anche fuori del cristianesimo cari amici per dare risposta a quegli interrogativi di fondo che caratterizzano la condizione umana pur fra esitazione ed errori l'uomo è approdato ad alcune certezze ampiamente presenti nelle diverse civiltà sono l'esistenza di Dio la sua provvidenza e cura per l'uomo l'esistenza dell'anima spirituale immortale la percezione morale vincolante per la coscienza la speranza di una vita dopo la morte queste sono le luci di verità che l'intelligenza e il cuore degli uomini hanno saputo con l'aiuto di Dio scoprire e consegnare alle generazioni future come patrimonio prezioso e insostituibile il cristianesimo tuttavia non si muove su tale terreno e questo costituisce la sua diversità cioè il cristianesimo dà per scontato cari amici che Dio esiste che c'è l'anima che c'è una coscienza morale che c'è una legge morale che c'è una vita dopo la morte questi sono il patrimonio delle religioni naturali ma il cristianesimo dà per scontato tutto questo parte dove le altre religioni sono arrivate esso il cristianesimo dà per acquisite le verità fondamentali presenti nelle altre religioni e incomincia esattamente dove esse finiscono le varie fedi nel loro momento più elevato portano l'uomo davanti alla maestà di Dio e si conducono l'anima dalle tenebre alla luce dal tempo all'eternità dalla morte all'immortalità la ricerca dell'umanità grazie soprattutto ai mistici di tutti i tempi è pervenuta fino alle soglie della divinità e lì si è fermata oltre non è stato possibile andare il cristianesimo non si colloca in questo itinerario dell'uomo verso Dio il cristianesimo non è il cammino umano e non è un'illuminazione divina concessa a qualche grande spirito come potrebbero essere le grandi personalità delle religioni mondiali si può certamente concedere che uomini come Confucio Lao Tse Buddha Zaratust Mahometto i saggi in due eccetera abbiano avuto un'autentica esperienza spirituale e perfino l'aiuto della grazia in ciò che hanno saputo proporre di vero e di santo rimaniamo tuttavia sempre nell'ambito di un itinerario ascendente da parte dell'uomo che annella l'assoluto io non ho nessuna difficoltà riconosce che la grazia di Dio abbia illuminato un Gandhi perché no però Gandhi rimane sempre nell'ambito dell'itinerario dell'anima verso l'assoluto il cristianesimo è tutta un'altra cosa è l'itinerario dell'assoluto verso l'anima umana è discendente il cristianesimo scrivo non è ricerca umana sia pure sostenuta dalla grazia ma è iniziativa divina ciò che distingue in modo radicale il cristianesimo dalle altre religioni è che esso compie un itinerario discendente di Dio verso l'uomo nella visione cristiana Dio esce da Dio e si fa uomo Gesù Cristo è Dio che ha assunto una vera natura umana si obietta che anche l'induismo si pone su questa linea in quanto prevede che vi siano manifestazioni divine attraverso alcune personalità umane si tratta di somiglianze solo apparenti con il cristianesimo in realtà l'induismo e le altre religioni asiatiche sono itinerari ascendenti cioè ricerche umane di Dio dove la salvezza è vista come conquista non come dono di grazia in questa luce e concludiamo cari amici possiamo dire che il cristianesimo valorizza tutte le fedi religiose nella misura in cui sono in grado di condurre l'uomo fino alle soglie della divinità ma poi presenta il suo messaggio come l'iniziativa di Dio che manifesta se stesso nel mistero della sua vita intima d'amore e introduce in essa l'uomo perché vi possa partecipare se la prodo delle religioni dell'umanità è la soglia di Dio la fede cristiana afferma che il destino dell'uomo è ben oltre in quanto Dio è uscito da Dio e si è fatto uomo per introdurre l'uomo dentro la divinità stessa le religioni umane sono come la mano tesa dell'uomo verso la divinità la religione divina cioè il cristianesimo è la mano di Dio che afferra quello dell'uomo e lo innalza facendolo sedere alla sua destra questa religione divina che cioè divina vuol dire che parte da Dio è appunto il cristianesimo che si presenta così come con una pienezza sovrabbondante che supera ogni speranza e ogni attesa ecco dunque caramici ho cercato dunque di delineare qual è l'atteggiamento del cristiano verso le altre religioni cioè il cristiano ha la consapevolezza della unicità della sua religione perché Cristo è Dio che si fa l'altro uomo si rapporta alle altre religioni cercando di vedere ciò che di buono c'è in esse ed è questo di buono che c'è in esse lo ritiene preparato da Dio perché come un buon terreno su cui si può gettare il seme della buona novella come una cerva che si può gettare il Signore è Lui la mia speranza l'anima mia sede del Signore in Lui si riposerà come una cerva nelle corsi d'acqua così la mia anima nella te oh Dio come una cerva nelle corsi d'acqua così la mia anima Dio